E' stato definito a Favara il programma in vista delle festività della commemorazione dei defundi e dell'Unità Nazionale e Forze Armate, rispettivamente il 2 e il 4 novembre. A partire dalle ore 9 del 2 novembre è prevista la deposizione di una corona d'oro al monumento dei caduti di Piazza Gavorre. Alle ore 10 si partirà alla volta del cimitero di Contrada Fontana e degli Angeli, a cui seguirà una Santa Messa. Alle 11.30 è prevista invece la deposizione di una corona di fiori al Milite Gnoto, presso il cimitero di Piana Traversa. Un corteo si sposterà presso la chiesa dello stesso luogo sacro, dove alle 12 è prevista la celebrazione di una Santa Messa. Ma qual è il piano traffico emesso dal VII Dipartimento di Polizia Municipale diretto dal Comandante Gaetano Raia? Come ogni anno la zona dei cimiteri subirà un afflusso numeroso di autovetture, non gay, di nostri concittadini che andranno a fare visita ai nostri morti. Naturalmente noi ci stiamo organizzando per far fronte a questo mole di traffico con un'ordinanza che prevede l'istituzione di un senso unico sulla via Capitano Callea. Dal 31 ottobre per i giorni 1 e 2 novembre la via Capitano Callea dall'ingrocio con la via Rodari all'ingrocio con la via Ambrosini sarà a senso unico. E il senso unico continuerà per la via Ambrosini, quindi fino all'ingrocio con la villetta Ambrosini. Mentre da questo lato la via Cigure di Francesca sarà a doppio senso, ma sarà quella via che sarà interessata dai mezzi pesanti provenienti dalla strada statale 640. Come detto, definito anche il programma relativo alla commemorazione del 4 novembre. A partire dalle ore 9 è prevista la deposizione di una corona di fiori presso la Chiesa Madre e presso l'abitazione di uno delle figure storiche di Favara, Calogero Marrone. A seguire un corteo si sposterà in Piazza Cavour dove alle ore 9 e 30 è prevista la deposizione di una corona d'alloro al Monumento dei Caduti, a conclusione della manifestazione Santa Messa in Chiesa Madre. Anche per questa giornata il comandante del settimo dipartimento alla Polizia Municipale, Gaetano Raia, ha emesso un piano traffico. Con le forze disponibili porteremo avanti la manifestazione chiudendo il traffico solamente al momento della precessione.